Siate curiosi e ambiziosi. Il Piemonte ha bisogno di giovani preparati, motivati e consapevoli del ruolo che possono giocare nel costruire una società più giusta, più forte, più prospera. Voi siete la spina dorsale della nostra nazione. Con queste parole il vicepresidente del Piemonte e assessore all'istruzione Elena Chiorino si è rivolta tramite una lettera alle studentesse e agli studenti che oggi iniziano l'anno scolastico. Lei stamane è stata in provincia di Biella, mentre gli altri componenti della giunta regionale hanno portato il loro saluto in altre scuole del Piemonte. Il presidente Alberto Cirio è stato prima fra le bambine e i bambini della scuola primaria di Mattie, comune del Torinese, colpito dall'ultima ondata di maltempo, per poi tornare a Torino in un altro istituto scolastico. La campanella in Piemonte, così come nella maggior parte d'Italia, è suonata all'insegna del calo demografico. 493.933 studenti di tutti gli ordini di scuola che si sono seduti nel loro banco. L'anno scorso erano 499.809. La diminuzione in tutto il Piemonte è stata pari a 5.876 studentesse e studenti. Per quanto riguarda la popolazione degli alunni nell'Alessandrino, sono 44.888 gli studenti che oggi sono entrati per la prima volta o sono tornati in classe. Anche in questa fetta di Piemonte, come riferisce l'ufficio scolastico territoriale guidato dalla dirigente Laura Bergonzi, ci sono 488 giovani utenti in meno, con un'automatica lieve diminuzione delle classi, scese da 2.301 a 2.296. Tra le novità di inizio anno scolastico, volute dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, anche per scopi didattici. Il ritorno ai giudizi descrittivi per le scuole primarie, le elementari, mentre scuole secondarie di primo, le medie e secondo grado, le superiori, resteranno al voto numerico. E ancora, saranno implementate le misure a sostegno dell'educazione civica e contro il bullismo e se non si raggiunge la sufficienza in condotta, si potrà essere bocciati. Per quanto riguarda la formazione tecnica, per gli istituti professionali parte la formula 4 più 2, la quale riduce di un anno la durata del percorso scolastico superiore, permettendo poi di prendere una specializzazione di due anni presso gli ITS. Restano, come ad ogni ripresa di questo comparto, difficoltà con le nomine per le supplenze, così come resta puntato il dito dei sindacati verso l'algoritmo del Ministero, che quest'anno ha escluso in automatico che non abbia indicato le preferenze per la sede di destinazione secondo le modalità richieste. E a proposito di istruzione e di successivi sbocchi occupazionali, secondo l'ultimo rapporto Ox Education, in Italia le giovani donne con una laurea guadagnano in media il 58% del salario dei loro coetanei maschi, che rappresenta il più grande divario retributivo di genere proprio nell'area Ox. Secondo quasi tutti i parametri disponibili, le ragazze e le donne ottengono risultati scolastici migliori rispetto ai maschi e in molti casi il divario si sta ampliando e anche se le donne superano chiaramente i ragazzi e gli uomini nell'istruzione, il quadro è invertito quando entrano nel mercato del lavoro. Quelle di età compresa tra i 25 e i 34 anni hanno meno probabilità di essere occupate rispetto agli uomini. Il divario è generalmente più ampio per coloro che hanno un livello di istruzione inferiore a quello secondario, superiore più rispetto ristretto per coloro che hanno conseguito un titolo di studio terziario.